che stai facendo? mi riprende? si stiamo facendo un'esercitazione per l'università rileviamo i portici di Bologna tutti tutti e adesso quest'anno questa via gli anni precedenti hanno fatto le altre vie per la facoltà di architettura dopo non so cosa ne faranno insomma per restituire... e quindi lei misura la base? eh si, ho misurato tutto ho un lavoro certosino devo misurarvi tutti e poi li andrò a ridisegnare grazie